Senza dubbio pensavano d'aver fatto un affarone le persone che hanno acquistato un'auto e una poltrona per 3.000 euro. Peccato che dopo aver pagato, della merce comprata non abbiano visto neanche l'ombra. Hanno segnalato la cosa ai carabinieri, sono partite le indagini che hanno portato i militari a una coppia, un uomo di 54 anni, una donna di 77, residente a Carmignano. I due devono rispondere di truffa.